Scusate ci sarà stata una interruzione, quindi come stavo dicendo rafforzò le difese di Budapest e iniziò anche la progettazione del castello di Buda, ma il successo del nostro Aristotele Fioravanti non si fermò all'Ungheria, l'acme del suo successo avvenne in Russia. ...dallo zar Ivan III il Grande, il quale aveva fermato l'avanzata dell'orda d'oro mongola e si poteva dedicare alla creazione di uno stato potente russo con Mosca come capitale, come città principale del nuovo stato russo. E quindi secondo lo zar russo era necessario affiancare alla grande potenza militare di Mosca anche un grande prestigio artistico. Quindi possiamo immaginare chi chiamò, chi volle alla sua corte, volle proprio Aristotele Fioravanti, il quale nel 1475 andò in Russia e divenne il primo dei friazzi. Con friazzi era il termine russo con il quale si designavano gli artisti italiani che prestavano prestigio, servizio alla corte dello zar. Quindi tra il 1475 e il 1479 Aristotele Fioravanti dirige i lavori della cattedrale dell'assunzione, conosciuta come cattedrale dell'adormizione, che attualmente si affatto con i cattedrali, al cremlino di Mosca, che è il cremlino più famoso di tutta la Russia. Aristotele lasciò di stucco tutti perché seppe fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto precedentemente. Seppe coniugare sia le istanze dell'arte occidentale e sia le istanze dell'arte ortodossa. Perché rimase legato ai dettami dell'arte ortodossa? Perché questa era una direttiva intransigente dello zar. Ma seppe donare alla cattedrale l'armonia tipica del gotico padano. Infatti le cattedrali tipiche ortodosse hanno gli ambienti separati tra loro, che convergono nell'ambiente centrale dove campeggia la cattedrale. Invece la cattedrale di Fioravanti ha uno spazio unitario di ampio respiro. E questa armonia non è rispettata solo negli ambienti interni, è rispettata anche negli ambienti esterni. Quindi quel luogo armonioso che noi vediamo oggi, quello che è diventato il centro monumentale di Mosca, dove vengono incoronati gli zar, dove sono stati incoronati per tutti i secoli, fino alla loro sconfitta definitiva, è la cattedrale dell'artista bolognese Fioravanti, che ha saputo coniugare la giusta armonia sia all'interno che all'esterno, e tra l'edificio e l'ambiente. È stato quindi il responsabile, il fautore di quella che viene definita la Reim russa. Dopo si dedicò anche ai sistemi di fortificazione, alle infrastrutture varie, alle infrastrutture varie di Mosca. Non poteva più tornare in Italia, infatti morì in circostanze ignote a Mosca, perché lo zar si affezionò così tanto a lui e divenne così dipendente dalla grandezza artistica del italiano che lo volle con sé fino alla morte. Quindi dietro il grande edificio rappresentativo di Mosca c'è l'opera di un grandissimo artista bolognese. Concludo dicendo che appunto Fioravanti non è stato l'unico, è stato un'ottima tradizione che ha visto artisti italiani partire dalla penisola e dirigersi verso l'impero russo. Infatti Fioravanti è un'ottima tradizione degli artisti italiani che ha creato quel grande capitale umano che hanno reso l'arte russa grandissima dal valore inestimabile. E quindi, magari molti di voi non lo sapevano, la via che attraversa quasi tutta la Bolognina, Aristotele Fioravanti, è dedicata a questo grandissimo artista, che è stato il primo ad aver creato questo legame tra Bologna e l'Est Europa, soprattutto la Russia. Scusate per l'incidente tecnico che c'è stato, si vede che la linea sarà saltata prima. Spero comunque che siate riusciti a seguire la diretta e che sia stato un'ottima. Alla prossima!